Ciao Fieu, è finita l'estate e io e il mio padrone siamo venuti a finire qua a fare un dia qui al Papaia. Guardate come c'è ben in ordine quest'anno, guardè vi ricordate l'anno scorso che casino che c'era, invece quest'anno c'è tutto bello pulito, tutti in ordine, guarda le casette sono state chiuse, guarda che dove c'erano tutti i tavoli sparpagliati e tutti rotti, adesso non ci sono più, c'è tutto bello in ordine. Io sto girando il guinzaglio come padrone perché non mi lascia libero perché c'è divento. Finalmente, grazie anche all'intervento dell'amministrazione che ha messo i cartelli, ha fatto fare i controlli, quest'anno qua il seno è bello pulito. Ciao, dal vostro balde.